Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, grazie Enzo. E allora, bentrovati a questa edizione di giugno, che come di consueto, diciamo, affronta un pochino le risultanze di quelle che sono state le politiche e in generale un pochino i trend sui compensi corrisposti dalle nostre aziende Fuzzimib nell'anno chiuso, quindi nel 2022. Quindi partirei con quattro blocchi, fondamentalmente in sintesi. Sui compensi corrisposti, ovviamente sono tutte informazioni che raccogliamo dalle relazioni sulla remunerazione. Con riferimento ai compensi corrisposti nel corso del 2022 abbiamo visto che le retribuzioni degli amministratori delegati da un punto di vista di retribuzione fissa, sostanzialmente è rimasta abbastanza stabile. Abbiamo rilevato, invece, un incremento, diciamo, sensibile del bonus annuale erogato in corrispondenza delle performance del 2022. Per quanto riguarda gli altri ruoli del Consiglio di Amministrazione, vedremo poi più nel dettaglio che c'è stato un mantenimento o un rinforzo del livello di competitività per, in particolare, per i consiglieri dipendenti e, devo dire, anche per i comitati endoconsigliari. Per quello che riguarda, invece, le politiche presentate dalle aziende riferimento al 2023, abbiamo fondamentalmente evidenziato come elemento un pochino in discontinuità l'incremento dell'offerta legata all'incentivo di medio-lungo termine, soprattutto nella parte medio e bassa del mercato e, quindi, facendo riferimento alle aziende industriali, prevalentemente uno spostamento ulteriore del mix retributivo a favore dell'incentivo a lungo termine, quindi degli LTI. Per quello che riguarda sempre le politiche retributive, mettendo un focus sui temi della sostenibilità, che, come sappiamo, sono molto rilevanti, insomma, in questa fase, vediamo essersi consolidato il trend di presenza delle componenti SG all'interno degli schemi di incentivazione e le aree maggiormente rappresentate, diciamo, della sfera della sostenibilità all'interno degli schemi incentivanti si confermano un pochino in continuità con quelli dell'anno scorso, quindi delle politiche 22, come molto importanti, le sfere dell'ambiente e del clima, dello human capital, con un particolare focus sulle politiche di Enai e naturalmente il tema della sicurezza sul lavoro. Poi faremo un piccolo affondo sui temi della disclosure, come di consueto, dove per anticipare abbiamo rilevato, diciamo, un ulteriore incremento del livello di trasparenza nell'ambito delle relazioni sulla remunerazione, consapevoli che comunque anche l'anno scorso si partiva da una situazione certamente positiva, fermo restando che si mantiene un certo livello di delicatezza, di sensibilità su quelle che sono le informazioni più delicate da un punto di vista di business e quindi sostanzialmente sulla disclosure dei target dei sistemi di incentivazione. Entrando, diciamo, un pochino più nel dettaglio, quindi guardando per prima cosa i compensi che ho disposti nel 2022 e partendo da remunerazione fissa degli amministratori delegati, questi sono riferimenti mediani e come anticipavo possiamo dire che c'è una sostanziale continuità, una piccola flessione dell'1%, ma fondamentalmente ci si attesta sempre attorno al 1.100.200.000. Guardando l'erogato sempre a valori mediani del bonus annuale, vediamo quest'anno che è sensibilmente più alto rispetto a quello erogato nel 2021, quindi stiamo parlando di circa 880.000 euro di mediana, ma la cosa a mio avviso interessante è che abbiamo registrato il valore più alto non soltanto rispetto al 2021, ma anche rispetto al decennio precedente, quindi al decennio fondamentalmente che copre un po' la nostra analisi Fuzzi e siamo arrivati, diciamo, a superare i livelli di erogazione anche del periodo pre-Covid. Un po' a supporto di queste evidenze sull'erogato annuale abbiamo provato a rappresentare un pochino ciò che sta sotto, questi premi annuali e quindi le performance del 22 e abbiamo visto che circa quasi il 70% delle aziende Fuzzi ha avuto una presa, una valutazione della scheda del proprio CEO in area di over performance e che nessuna azienda è stata sostanzialmente in area di non erogazione. E supportato di nuovo questa evidenza da quello che è stato in termini cumulati il valore complessivo dell'utile lordo sviluppato dall'indice Fuzzi. Quest'anno, meglio scusate, nel 2022 arriviamo quasi a 100 miliardi di euro di utile lordo complessivo, quindi sicuramente in crescita ma anche più alto di nuovo del periodo pre-pandemico e una cosa che abbiamo fatto perché ci era venuto un pochino la curiosità di capire se ci fossero state dei cluster di aziende o delle industrie che hanno magari trainato più di altri questa crescita, in realtà la risposta che tutte le aziende, tutte le industrie hanno dato il loro contributo a questa crescita, noi abbiamo analizzato tre cluster, financial services, energy perché sappiamo che le aziende del settore energetico insomma hanno avuto delle evoluzioni collegate anche alla crescita dei prezzi e l'energia e tutto il resto del mondo. In realtà tutti e tre questi cluster hanno avuto fatturati e utili in crescita sia rispetto al 21 che rispetto al periodo antecedente al covid. Perfetto, passando agli altri ruoli interni del consiglio di amministrazione per quello che riguarda i presidenti da un punto di vista diciamo di assetti di governance, vediamo che nel 75% dei casi le nostre aziende Fuzzi hanno un presidente non esecutivo in leggera crescita diciamo rispetto all'anno scorso dove se ne registravano il 73%. A livello di compensi ovviamente le statistiche separate per presidente esecutivo e non esecutivo sostanzialmente rimangono stabili i riferimenti mediani e come anticipavo invece quello, i compensi che hanno avuto un pochino più di dinamica sono i compensi riferiti ai membri non esecutivi del board dove l'abbiamo registrato rispetto al 2021 una crescita di poco più del 7%, quindi a valori mediani da 65 a 70 mila euro. E questa dinamica è stata un pochino riscontrata anche a livello di comitati endoconsigliari. Quindi guardando diciamo i principali comitati, quindi qui vedete i numeri, però forse è più efficace così guardarlo in confronto rispetto a quello che era lo scorso anno. Quindi vediamo tutte queste diciamo freccette verdi che ci indicano gli monumenti che sono stati in aumento rispetto all'anno precedente per i vari comitati e per il ruolo di presidente membro. Tutti gli altri elementi che non hanno la freccetta verde comunque confermano un livello di stabilità. L'unico che fa eccezione, ma direi che forse è più una appunto un'eccezione che altro, lievemente in ribasso troviamo il compenso del presidente del comitato di emunerazione nomine sulla parte alta di mercato. E anche se guardiamo il comitato sostenibilità riscontriamo una dinamica molto simile. Queste statistiche fanno riferimento alle 21 aziende che si sono dotate di un comitato sostenibilità diciamo a se stante e che non hanno consolidato le competenze riguardanti la sostenibilità in altri comitati endoconsigliari. Quindi quello che ci sembrerebbe di poter dire che c'è stato nel corso del 22 sui compensi corrisposti un rafforzamento dei compensi riconosciuti per le attività di consigliere indipendente e di attività consigliare insomma anche a livello di comitato. Passando invece ai due focus che abbiamo fatto sulle politiche per quanto riguarda appunto le politiche in senso stretto dal punto di vista prettamente retributivo abbiamo voluto fare un focus come dicevamo sui sistemi di incentivazione quindi sulle offerte descritte in termini di politica 23 sugli schemi annuali e pluriannali dove sullo schema annuale sostanzialmente si confermano le offerte registrate anche nelle politiche del 22 mentre troviamo una un incremento anche abbastanza sensibile sull'offerta degli schemi pluriannali sia a livello di diciamo riferimenti mediani che si incrementano di un pochino più di centomila euro ma soprattutto di riferimenti di primo quartile dove vediamo un incremento di più di trecentomila euro quindi probabilmente anche le aziende che non avevano ancora diciamo completato quello shift su una struttura remunerativa molto legata alle performance di medio e lungo termine si stanno avvicinando da quel modello e anche il PMX di nuovo il PMX fa riferimento al perimetro delle aziende industriali quindi non financial services il PMX rispetto alla politica 22 si sposta ancora di qualche punto percentuale a favore dei sistemi di incentivazione a lungo termine che sulle politiche 23 risultano pesare del 46 per cento rispetto quindi rubano tra virgolette quattro punti percentuali due punti al fisso e due punti allo schema di breve termine rispetto all'anno precedente e andando diciamo in collegamento diretto ai temi della sostenibilità anche il trend diciamo così di rappresentazione della sfera della sostenibilità all'interno dei sistemi incentivanti prosegue nelle politiche 23 solo il 5 per cento delle aziende del listino non prevede indicatori connessi alla sostenibilità né nell'MBO né nell'LTI e aumentano le aziende che li prevedono sia nel breve che nel lungo termine e il peso che questi indicatori hanno negli schemi incentivanti si conferma sostanzialmente agli stessi livelli dello scorso anno nell'intorno del 20 per cento 20 l'MBO e circa 23 con riferimento all'LTI se andiamo un attimo a esplodere quelle che sono le aree maggiormente rappresentate nell'ambito degli schemi di incentivazione la fotografia al netto diciamo di quello che vedete definito come prodotti investimenti che magari su cui andranno poi probabilmente in approfondimento Roberto e Mario e che sono tipici della diciamo del mondo dei financial services per il resto la fotografia è molto simile a quella delle politiche 22 quindi un'importanza così significativa della sfera ambiente soprattutto sugli schemi a lungo termine di nuovo un'importanza significativa di tutte le politiche di ENAI e soprattutto negli schemi di incentivazione pluriannale e nell'MBO una maggiore frequenza di rilevazione di indicatori connessi alla sicurezza volendo fare un ulteriore approfondimento su tutto quello che è il mondo della diversity equity inclusion abbiamo provato a così entrare un attimino più nel dettaglio di quelle che sono le aree maggiormente coperte nell'ambito di questa dimensione della sostenibilità legata alle persone e abbiamo visto che circa l'ottanta per cento delle aziende utilizza indicatori connessi alle politiche di ENAI un terzo o poco più di un terzo in entrambi gli schemi di incentivazione e che in netta prevalenza tale dimensione della sostenibilità viene connessa ad una tematica o problematica di gender balance che è comprensibile se guardiamo ancora oggi com'è la distribuzione qual è il balance donne e uomini tra prima linea quindi diciamo top 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 management prima linea dell'amministratore delegato e diciamo i vari aggregati per qualifica perché oggettivamente certo il 15 per cento di donne in prima linea è basso ma personalmente devo essere sincera ancora di più mi stupisce il 19 per cento nell'ambito della della popolazione dirigenziale quindi certamente c'è c'è un tema di balance devo anche dire però che un pochino mi ha stupito trovare diciamo diversamente mi sarei aspettata di trovare un pochino di più il tema del gap retributivo perché sappiamo che è un filone su cui si sta sviluppando anche una richiesta di disclosure di trasparenza che poi potrebbe implicare anche delle tra virgolette conseguenze no o comunque delle azioni laddove fosse non non coerente con quelle che sono le indicazioni vero è che lavorare sul gap retributivo è un percorso lungo bisogna attrezzarsi bisogna capire dove si è bisogna implementare gli strumenti però ecco forse mi sarei aspettata un pochino in più di rappresentazione di questo tema nelle politiche del 2023 ecco volevamo porre porci una domanda che poi magari troverà più spazio anche di confronto con l'intervento successivo sul tema della sostenibilità della course to action però abbiamo provato a mecciare alcune delle informazioni delle evidenze che abbiamo raccolte e vi abbiamo proposto fino adesso e allora ci siamo detti un'evidenza di un cambiamento che abbiamo tracciato un'evoluzione tracciata sulle politiche 23 è l'incremento del peso della retribuzione a lungo termine che vuol dire ovviamente le performance di medio lungo e la sostenibilità della performance o la performance sostenibile continuano a trovare sempre più spazio nell'ambito della retribuzione agli amministratori delegati e abbiamo visto che anche la dimensione della sostenibilità è sempre più presente nell'ambito degli schemi di incentivazione come diciamo numero di aziende che adotta l'indicatore sostenibilità nell'ambito degli schemi a lungo termine però la sensazione che abbiamo è che i cambiamenti rispetto all'anno scorso siano di consolidamento siano abbastanza marginali quindi abbiamo sicuramente un po' di incremento nel livello di diffusione abbiamo un peso sostanzialmente stabile di questi indicatori nei sistemi tra l'altro dobbiamo anche diciamo ricordarci che abbiamo detto pesano il 20% il 23% ma poi spesso tale peso è frazionato su diversi diciamo indicatori e quindi noi ci siamo abbiamo fatto una riflessione ci siamo posti una domanda cioè ci siamo chiesti ma abbiamo raggiunto la situazione la condizione ottimale cioè siamo al livello di soddisfazione rispetto a come abbiamo potuto integrare le dimensioni della sostenibilità nella strategia di business e quindi questo è diciamo l'ottimo oppure siamo arrivati a un momento a un tetto che magari per essere sfondato necessita di un ulteriore cambio di paradigma di un cambio di paradigma che può riguardare una ancora maggiore integrazione della sostenibilità nel purpose che può riguardare una necessità di shift e di evoluzione anche culturale di introduzione di modelli di strumenti di processi lasciamo diciamo un dubbio un dubbio su questo da ultimo faccio un piccolo focus sul tema della disclosure che poi sono sicura che darà anche un bridge a Francesco per il suo intervento allora noi abbiamo già visto anche negli anni scorsi da quando sostanzialmente è entrato in vigore il nuovo regolamento emittenti con i requisiti di disclosure dettati un pochino dalla Svd che il livello di adesione di rispondenza delle aziende era insomma buono decisamente buono diciamo che anche quest'anno rispetto allo scorso anno abbiamo visto che c'è stato un ulteriore sforzo da parte delle aziende per nella diciamo nella direzione della trasparenza della chiarezza gli elementi che rimangono ancora un pochino più diciamo delicati e quindi su cui c'è un livello di disclosure inferiore riguardano possiamo dire sia in sezione 1 quindi in termini di politica che è in sezione 2 il tema della disclosure dei target dei sistemi di incentivazione in particolare dei sistemi di incentivazione annuali quando si parla di disclosure ex ante è vero che questo non è una richiesta non è un obbligo che ci deriva di disclosure da regolamento emittenti è vero che il mercato gli investitori dei proxy hanno attese di disclosure su questi elementi e saranno sempre già hanno iniziato a esserlo ma probabilmente saranno sempre più severi nel giudicare i piani che non presentano ex ante disclosure sugli obiettivi di performance e questo a nostro parere è un elemento che le aziende devono prendere i consigli devono prendere in considerazione i comitati devono prendere in considerazione proprio come una valutazione di rischio quindi cordo a rischio di fare disclosure di informazioni sensibili cordo a rischio di avere una valutazione non positiva da parte diciamo degli shareholder degli stakeholder sul mercato esterno di rischio